E' tutta la vita che ascoltiamo fatti spaventosi accaduti per le strade di tutto il mondo, dalle storie di fantasmi a incidenti dovuti ai venti paranormali e addirittura casi mai del tutto chiariti e quindi archiviati. I 5 casi che stai per vedere ti faranno sicuramente riflettere. Detto ciò, queste sono 5 cose terribili che accadono per le strade. Sei pronto? Iniziamo! Numero 5. La Contea di Boone La Contea di Boone, in Illinois, è il posto più pericoloso degli Stati Uniti. Si dice che le strade di questo luogo siano infestate. Terribili eventi si sono verificati in passato. Si parla di omicidi, suicidi e persino avvistamenti di bambini morti in un autobus precipitato da un ponte. Uno dei casi peggiori è quello di una mamma che uccide i suoi figli. Si crede che in quella zona vivesse una strega che uccise i suoi figli in una vecchia fattoria. Da allora ci sono diverse persone che affermano di vedere dei bambini morti per le strade della città. Numero 4. La Clinton Highway Sono in molti a pensare che questo ponte del New Jersey sia uno dei ponti più pericolosi del mondo. Si dice che se si lancia una moneta da questo ponte, il fantasma di un bambino venga per restituirtela. Ma non è tutto. Il ponte è anche il luogo in cui si incontrano gli aderatori di Satana e membri del Ku Klux Klan. Sono all'ordine del giorno avvistamenti di strani animali, forse sopravvissuti di un vecchio zoo abbandonato della zona. Se ti capita di andare da quelle parti, attento agli animali. Meglio starne alla larga. Numero 3. La Tuen Moon Road La Tuen Moon Road a Hong Kong è una delle strade più importanti e utilizzate della città. È nota per avere lunghe code ingorghi, praticamente in qualunque ora del giorno. I cittadini incolpano i fantasmi dei tragici incidenti che si verificano su questa strada. Dicono che appaiono dal nulla, spaventando i conducenti e causando incidenti mortali. Infatti, il numero di persone che muoiono su questa strada è in continuo aumento. Se per caso ti trovi lì e devi attraversarla, fallo con estrema cautela. Numero 2. La Kelly Road La Kelly Road si trova in Pennsylvania ed ha un ufficio dedicato alle segnalazioni di attività panorormali e inspiegabili. È circondata da un fitto bosco ed è forse questo il motivo delle svariate apparizioni di una presenza pericolosa e violenta che attacca non solo le persone, ma anche gli animali. Le voci suggeriscono che questa apparizione è dovuta alle tante attività occulte svolte nei boschi. E sì, credo proprio che questa strada sia maledetta. Numero 1. La Ghost Road Questa strada della Scozia è il luogo di numerosi avvistamenti da più di 50 anni. Le apparizioni sono così frequenti da essere stata soprannominata Ghost Way. Infatti, è la strada più festata della Scozia. Nel 1957, un camionista investe una coppia che cammina davanti al suo camion, ma i loro corpi non vengono mai ritrovati. Davvero inquietante. Bene, il video è terminato. Hai mai vissuto esperienze del genere? Fammelo sapere nei commenti e non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere nessun nuovo video. Ciao curiosone, a domani!